questa occasione per chiederci come possiamo fare ad onorare ogni giorno la resistenza e per rispondere pensiamo innanzitutto alla più grande eredità che la resistenza ci ha lasciato, cioè la nostra carta costituzionale democratica. Grazie, grazie. Grazie, grazie. In Italia l'individualismo, l'egoismo sono anticostituzionali, sono fuori legge e a chi teme che a causa della solidarietà l'Italia possa perdere la sua identità rispondiamo che al contrario l'Italia perde la sua identità se non applica la solidarietà.